La Taverna Salumi, formaggi, panetteria, prodotti alimentari Leader del mercato per la vendita di cestini natalizi Ampia gamma di scelta e prezzi per tutte le disponibilità Cestini con prodotti regionali e locali di alta qualità anche con consegna veloce a domicilio Consegne in tutta Italia Cestini ricchi e assortiti che potrai comporre a tuo piacimento con salumi, formaggi, le nostre specialità formaggi sardi e toscali, dolciaria di ogni tipo panettoni artigianali e tante altre peribatezze Fino all'Epifania orario continuato tutti i giorni compresa la domenica dalle ore 8 alle 20 e 30 Vi aspettiamo in via Lombardia 2 Taranto La Taverna, da 40 anni, professionalità, qualità e convenienza al servizio del cliente